Un uomo, già stagionato e brizzolato, credette giunto il momento propizio di prendere moglie e mettere giudizio. Erano molte quelle giovani ancora e belle che gli facevano la corte, ma quell'uomo che era ricco e ancora forte prima voleva vedere, toccare con mano. In queste cose chi va in pian va sano. Due vedovelle, al fin, prese il possesso del suo cuore, di cui l'una forse un po' giovane per lui, e l'altra più verso l'età canonica, che si teneva in prezzo ed in figura, correggendo con l'arte la natura. Le vedove venivano assai spesso in casa, e or quella, or questa, pervezze o carezzandogli la testa. La vecchia gli strappava ogni momento qualche capello nero, e l'altra gli strappava quei d'argento, per far che il galante fosse a ciascun desse somigliante. E strappa e strappa il nostro innamorato s'avvide ai troppo tardi, di restar fra le due tutto pelato. Questo, e gli disse, è un saggio avvertimento, di cui proprio vi son molto obbligato. Addio, belle. Di moglie or faccio senza. Non mi sento d'aver tanta pazienza di fare a modo suo, che se l'è trista non c'è testa pelata che resista. Fine della favola, l'uomo stagionato e le due amanti.